Il copione si ripete, la follia omicida del terrorismo, lo shock, la rabbia, le lacrime, le manifestazioni di solidarietà. Se il terrorismo è un sottoprodotto tossico, dell'odio, allora l'Occidente risponde con le fiaccolate, i gessetti, le scritte colorate sull'asfalto, le invocazioni alla pace, i fiori. Una reazione civile, composta, sicuramente anche colta di responsabilità, ma che non scoraggia né intenerisce il becero fondamentalismo. E già quando un uomo con una fiaccola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la fiaccola è un uomo morto. Purtroppo la luce di una torcia non fa breccia nell'oscurantismo del terrorismo islamico. Così anche a Bassano la fiaccolata proposta dal sindaco è e resta un simbolo, in memoria del povero Luca Russo, vittima vicentina dell'attentato sulla Rambla di Barcellona, ma una sfilata non vuole e non può essere la soluzione. La gente oggi chiede sicurezza. Il terrorismo islamita, come tutte le follie, è imprevedibile, può colpire sempre e ovunque e anche Vicenza trema. I punti sensibili non mancano, dalle due basi militari americane al santuario di Monteberico fino al centro storico. Blindare tutta la città è impossibile, ma si possono limitare i rischi, soprattutto nelle zone pedonalizzate con maggiori assembramenti di folla. Per difendere gli accessi a Corso Palladio e alle piazze, nell'emergenza possono andare benissimo i New Jersey in cemento armato, ma servono soluzioni definitive e noi di Rete Veneta ieri abbiamo proposto delle barriere a scomparsa sul modello dei pilomat. Certamente i pilomat sono lo strumento migliore da utilizzare in queste circostanze, ma però integrato da altri sistemi perché le situazioni non sono tutte uguali. Le situazioni non sono tutte uguali e infatti in centro storico si potranno usare anche delle fioriere in cemento per limitare alcuni accessi o bloccarne altri. Insomma bisogna cominciare a pensare a soluzioni concrete, strutturali, di arredo urbano, che sia ben chiaro non risolvono il problema ma, se non altro, riducono i rischi. In prefettura è stato preannunciato l'esigenza di adottare queste precauzioni fisse anche per la città nella sua vita quotidiana, ovviamente partendo dalle strade che hanno maggiore valore per i terroristi e quindi stiamo parlando di Corso Palladio certamente, ma non è escluso che vengano comprese anche altre strade.